L'Utes, l'Università della Terza Età di San Benedetto, compie 25 anni. Nozze d'argento che si festeggeranno il 14 giugno attraverso un convegno all'auditorium comunale al quale parteciperà anche lo scrittore, il famoso scrittore Federico Moccia. Questo è un bellissimo traguardo che noi abbiamo raggiunto del 25esimo perché abbiamo iniziato dal professor Lupi e siamo andati sempre avanti grazie a tutti gli altri predecessori, però ora abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale perché abbiamo quasi 1200 iscritti e con gioia facciamo questo festeggiamento con tante personalità. Avremo il professor Cinalia che è stato con noi da 12 anni e poi il professor Papetti che è stato il primo insegnante da Lupi e quindi è un proseguo, una continuità che noi abbiamo e interverrà Federico Moccia, lo scrittore, che presenterà il suo libro e parlerà anche ovviamente di noi. Poi abbiamo un intermezzo con un violinista, per non farci mancare nulla, un ragazzo, un giovane ragazzo albanese che si sta facendo strada e chiuderemo con una cena meravigliosa da Federico. Siamo diventati, come si suol dire, una bella realtà nel nostro tessuto sociale. Ci siamo integrati molto bene anche perché i nostri costi sono prettamente sociali. Il nostro obiettivo unico è solo cercare di pagare i docenti. Questi docenti che vengono da università, che vengono da luoghi molto privilegiati nel senso della cultura in quanto tale. Quindi l'Utes ha fatto dei grandissimi passi avanti e per questo ringraziamo tutti coloro, ma soprattutto tutte quelle persone che offrono un po' del loro tempo a noi.